Sabato scorso, nel primo giorno di primavera, come sapete il cielo è stato parzialmente oscurato da una eclissi di sole. Queste curiose immagini sono state riprese nella Basilica di San Petronio. Essendo avvenuto in tarda mattinata, l'immagine riflessa del disco solare si era proiettata nel pavimento della chiesa, in attesa di lambire, al mezzogiorno astronomico, la linea della Meridiana. Come è noto, la celebre Meridiana di San Petronio fu realizzata dagli astronomi dell'Ateneo Bolognese per confermare gli effetti della riforma del calendario del 1582.